Trovo sinceramente sconcertanti le dichiarazioni rese alla stampa dalla ministra dell'agricoltura Teresa Belanova in vista delle elezioni regionali della prossima primavera e quanto dichiara Mino Borracino assessore allo sviluppo economico della regione Puglia. Affermare addirittura che la Puglia è allo sbando infatti è una palese mistificazione della realtà come dimostrano gli straordinari risultati conseguiti per esempio sullo sviluppo economico con gli indicatori tutti positivi rilevati dai principali e più autorevoli centri di ricerca che collocano la Puglia tra le regioni trainanti del mezzogiorno d'Italia e non solo anche grazie alla grande capacità dimostrata in questi anni dispessa dei fondi comunitari. Ma l'elenco dei meriti di questo governo regionale sarebbe troppo lungo da tratteggiare basti pensare all'aumento dei flussi turistici verso la Puglia che ne fanno oggi una delle mete più ricercate al mondo o ai grandi investimenti per favorire l'internazionalizzazione del nostro sistema produttivo o allo sforzo enorme per procedere rapidamente con centinaia di stabilizzazioni di personale precario nella sanità con il contestuale avvio di numerosissime procedure per l'assunzione di migliaia di nuovi medici, infermieri, ausiliari, operatori sociosanitari, amministrativi. Senza dimenticare le battaglie condotte per la tutela del nostro mare contro le trivelazioni o per fermare l'approdo della TAP a San Foca o i progetti in via di realizzazione per migliorare le nostre infrastrutture e collegare sempre di più e sempre meglio tutta la Puglia al resto d'Italia e all'Europa. Purtroppo però l'astio personale e il risentimento covato nei confronti di Michele Emiliano stanno portando Italia Vive, il suo leader Matteo Renzi, ad assumere posizioni inaccettabili sotto il profilo politico e destinate esclusivamente a produrre una frattura dolorosa nell'elettorato di centrosinistra che renderà più debole la coalizione progressista e democratica con il rischio di regalare la Puglia a Matteo Salvini e a Giorgia Meloni. Lavorare per sabotare il centrosinistra senza avere alcun rispetto per le oltre 80.000 persone che domenica scorsa hanno democraticamente scelto chi dovrà rappresentarli nella contesa elettorale della prossima primavera rappresenta uno schiaffo al buonsenso che denuncia l'unico obiettivo che Teresa Bellanova e Matteo Renzi intendono perseguire, non avendo alcuna possibilità di competere sul piano elettorale con le altre proposte politiche in campo. La Puglia non può tornare indietro, conclude così l'assessore Mino Borracino.